E' stata una notte di tuoni, lampi e frane in provincia di Sondrio, sferzata da una violenta perturbazione che nel giro di poche ore a partire dalla serata ha visto cadere piogge abbondanti su buona parte del territorio. In Val Chiavenna e Alta Valtellina le situazioni di maggiore criticità. A Val di Dentro per una frana chiusa la Decoville, il tratto compreso fra l'imbocco iniziale ai tornanti di Cancano e la strada che sale da Sant'Antonio nella frazione di Pedenozzo. Precauzionalmente due famiglie sono state evacuate. Si sono registrate tre colate di sassi, fango e detriti, spiega il consigliere delegato Mattia Sosio. Siamo intervenuti con ditte incaricate sia per la rimozione del materiale dalla strada, sia per il ripristino delle reti paramassi che permettano al più presto la messa in sicurezza dell'area a valle. Ma la minoranza che ha diffuso questo reportage fotografico per documentare la delicatezza della situazione attacca, accusando di fatto la nuova amministrazione di inesperienza. Qui occorre un intervento di somma urgenza, dice il gruppo dell'ex sindaco Ezio Trabucchi. Era prevedibile che nuovi temporali avrebbero innescato nuovi eventi franosi dopo quelli di domenica e stanotte puntualmente ciò è avvenuto. Invece si è intervenuti liberando dal materiale franoso solo il sedime della strada, senza occuparsi di quello depositato sia a monte e a valle della strada stessa, scaricato e scivolato sullo strato preesistente e ora in combente su Sant'Antonio, non più protetto dalle reti, rimaste danneggiate. Si sta sottovalutando la situazione, bisogna sgomberare al più presto tutto il materiale. Già dalla scorsa notte abbiamo effettuato i primi sovralluoghi e oggi siamo intervenuti, replica Sosio. La situazione è complessa e delicata, è meglio avere le idee chiare prima di agire in modo precipitoso. Le reti saranno pronte tra oggi e domani. Problemi anche a Chiavenna, dove la montagna si è mossa fino a spingere una colata di terra fino a ridosso della località Loreto, per un dislivello che va dai 1200 ai 400 metri di quota dell'abitato. Lo smottamento ha invaso i giardini, il materiale è consistente. È altamente probabile che sia l'effetto del vasto incendio dello scorso inverno, dice il sindaco Luca della Bitta, quando il fuoco ha bruciato gli alberi, di fatto privando il terreno di tenuta, spiega il primo cittadino, che ha disposto l'ordinanza di evacuazione per tre fabbricati occupati da due nuclei familiari. Quale presidente della provincia della Bitta stamane è stato anche a Villa di Chiavenna, dove va normalizzandosi l'emergenza causata dalla piena del torrente Vallate, che ha trascinato materiale fin sulla statale 37 del Maloia, fortunatamente fuori dal centro abitato, percorribile a senso unico alternato, in attesa che si completi lo sgombero dei detriti. Problemi anche per i treni. Ieri sera un albero è caduto sulla ferrovia nella zona di Ardenno, bloccando il transito per qualche ora. Un guasto alla linea elettrica tra Dervio e Piona ha causato stamane ritardi, soppressioni e sostituzioni di convogli con autobus sulla linea Lecco-Sondrio-Tirano. Dalla tarda mattinata i problemi sono stati superati.